Altro modello customizzato, questa volta si tratta dello Spyderco Military, avendone già due particolari, quello tutto in titanio e quello con le guanagette di fibre di carbonio, volevo realizzare un terzo modello che fosse questa volta veramente unico. Ho progettato di farlo in questa maniera facendogli dei bolsters in acciaio damasco, molto bello ma anche come disegno, lucidati, ai quali poi è stata aggiunta una guancetta in canvas micarta, green canvas micarta. In più ho fatto sostituire completamente il liner originale facendone fare uno in titanio e trasformandolo quindi in un frame lock. Il risultato come vedete è un particolare modello davvero unico. la lama del military, il modello era una delle prime serie, un cpm 440v con lama completamente spalla di legge, serrated. Come vedete il frame blocca abbastanza bene. all'inizio Grazie a tutti.